5000 mi piace su questo video e non appena li lascerete andremo a fare a pubblicare subito un nuovo episodio della serie a realistica 2000 2001 detto questo ciao ragazzi ben ritrovati a tutti iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche fate la stessa cosa sul primo canale youtube di calcio parallelo a questo abbiamo anche un terzo canale youtube non di calcio trovate tutto in descrizione oppure cliccando qui se lascerete 5000 mi piace entro la mezzanotte ragazzi preparatevi che al prossimo episodio facciamo due partite detto questo dobbiamo andare ad affrontare o meglio devi venire ad affrontare il mio bologna esatto di giuseppe signori e ulio ulio si chiamava ulio ricardo cruz cruz ex calciatore dell'inter c'era pure uome soprattutto paio non abbiamo mai nominato ma c'è anche lì ma della roma ormai ragazzi non devo ripetere in cosa consiste la serie a realistica andate a recuperare il primo episodio se non l'avete fatto perché c'è da divertirsi e detto questo io sono pronto ecco stavo solo sistemando gli ultimi dettagli ma ci sono ci sono io sto a posto così te dico la verità vediamo le divise eh bellissime mamma mia le divise del passato vai bellissime 3 2 1 yeah e dai che si comincia vado a vedere una cosa rapidissima esatto all'andata come era finita tra roma e bologna di serie a 2000-2001 perché ormai è diventato una cosa abituale andare a vedere com'era andata come era andata allora dovrebbe allora bologna roma questo forse però il ritorno 1 a 2 si batistuta emerson e brioschi poi accorciò il bologna mentre invece si roma bologna serie a 2000-2001 si finì 2 a 0 per la roma con i gol di totti e l'autogol di castellini quindi l'andata però era roma bologna roma bologna 2 a 0 quindi diciamo che è quella vado eh vai guarda guarda non mescala guarda non mescala guarda non mescala emerson mamma mia payuca non trattiene mamma mia ragazzi Gianluca payuca signor portiere rivediamo subito la roma aggressivissima mamma mia everson de cattiveria mamma mia guardate payuca guarda come la parata guarda come la parata mi hai spezzato una mano Francesco Totti ovviamente l'abbattuta mamma mia Totti con la fascetta bello il cross in mezzo 1 a 0 roma subito dopo 3 minuti Walter Samuel no the wall the wall ragazzi mamma che belle le animazioni però ragazzi calcio d'angolo perfetto di Francesco Totti ragazzi ma ci puoi dire andare a tu ma 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 perché ci sei andato tu perché siamo buoni ah ecco dai mamma mia ragazzi si abbracciano a Francesco Totti e Walter Samuel alla Roma passa in vantaggio che spettacolo però grazie guarda che assist de Totti cross in mezzo mamma mia ma che gli facevo ragazzi che cosa gli facevo perfetto lo stacco rivediamo da questa angolazione mamma mia mamma mia guarda che roba perfetta l'esecuzione ma no ma ho provato niente ma che gli vuoi farla no perfetto perfetto ma che perfetto ora ti faccio vedere io a te su undquist vai ma che è a pokemon era sudoquist quello è sudovuto ah è sudovuto sudo ma cosa vado ah ti sei nascosto a un fuorigioco la bea attaccati zieta beppe beppe pure si era visto mamma mia la Roma è velocissima incontroviete Marco del Vecchio Marco del Vecchio mannaggia ma perché mi si è fermato francesco mamma mia mamma che ciavatta ragazzi beppe mamma mia beppe signori c'è una pezza da fuori beppe signori ragazzi passaggio caccia la mazza mi sono girato mi hai lasciato lo spazio mamma mia ragazzi che panacca mamma mia era fuorigioco fuorigioco creata un'occasione no hai fatto fallo infatti fallo per me è rigore se no no pensavo fuori mamma mia francesco totti protegge palla in buca verso mamma mia se poco poco era leggermente leggermente più corta famme mberchi mamma mia si è perso palla per strada ragazzi fermi oh unio cruz calcio d'angolo solo 81 beppe signori oh mamma mia ho indirizzata come la tua solo che la tua è entrata la mia no mamma mia unio cruz si gira bene è il cardinero gli camminano sopra Antognoli si arrabbia è bello mamma l'ha mai chiuso bene l'avevo presa sono stato bravo passaggio tiro si gira guarda con le squadre inferiori sulla carta l'unico modo per andare al tiro è così te ne accorgerai quando prenderai una squadra inferiore alla Roma sulla carta attenzione c'è l'errore c'è l'errore eeeh 1-0 1-0 buono ottimo fai i cambi no vai avanti allora manco io vai cerchiamo buono bello ma che hai fatto salvataggio sulla linea cos'era ho provato il tiro infatti me ne raccordo c'è la miseria non era per lui era per quello che entrava da sotto ottimo non c'ho la qualità fino a quel punto no per poter usare mamma mia regà ce sto a provare in tu ma non così in tutti i modi ragazzi regà vi giuro la Roma soffre soffre ma non riesco la Roma sta soffrendo è difficilissimo mamma che gol stavo a soffrire stavo a soffrire come una bestia che gol come una bestia stavo soffrendo mamma mia ragazzi sping spidi ping spi mamma mia mamma mia ragazzi miei comunque io non lo so boh ma sta faccia mi dà proprio senso di un realismo e cioè sembra veramente di essere tornati al realismo di quel calcio vedi come ha tirato ha tirato un po' capito come bello 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 ragazzi tanta roba regà prova vincenzio la martella cazzi miei l'aeroplanino appena entrato ma ci hanno messo pure la risultanza io non ci posso ecco l'aeroplanino vincenzo montella mortacci tu ha fatto un tiro un gol appena entrato appena entrato ho spazzato se vedeva già che la Roma riorganizzati ma di che non mi ha dato tempo riorganizzati eccolo c'è un gol mortacci che razza bellissimo il gol 2 a 1 Roma due ore per fangol e il secondo per subito esatto esatto mamma mia oh eh cioè a livello difensivo ma i quanti pure sono dalla Roma no no a livello difensivo ragazzi una fatica per entrare nelle maglie d'esta Roma eh già vai eccolo ma come ha fatto a tirare così si era aperto si ma come ha fatto a tirare levati mamma che m'ha parato butta via mamma di Fabio spazza via Antonioni la fortuna del principia mortacci tua ma non vincere lo sapevo che è una fine allora ne vincenzo montella vincenzo montella no non ho visto che usciva non l'ho visto che usciva mamma ma che hai fatto eh ho provato la bomba al volo mi devo sbrigare ragazzi eh ma no mamma mia palo venga mi sono strani eh mamma mia palla stop passaggio perfetto stop oppure ci ha messo la mano no ci ha messo la mano ho visto io fa no perché sono davanti eh sì ho visto male allora meno male facciamo il porco meno male dai rapido rapido sull'altra fascia bellissimo oh ma sembra di essere tornati veramente al carcio del Zemanlandia oh ma qua si apre tutto ma detacco no eh non ti piaceva pressa 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 ancora Vincenzino Montella muoviti Giallu date una mossa e dagli Vincenzino guadagna tempo Vincenzino bravo penso di a proteggere la bandierina forse ce la fa no la risalda Vincenzino Montella tre punti soffertissimi me la so giocata la grandissima soffertissimi me la sono devi mannare avanti bella bella mi è piaciuta molto degredo degredo è stata combattuta ma combattuta perché ma guarda l'estate ma che cosa stai dicendo guarda le statistiche e la Roma esce vincitrice taglie non ce posso credere raga Samuel migliore in campo voto 7 degredo hai vinto per quel gol che mi hai fatto di testa che mi hai colto un fallo per quello hai vinto bellissimo Bologna Roma 1 a 2 Milan 3 Lecce 1 Lazio Juve 2 a 2 Fjartina Parma 1 a 1 Verona 0 Brescia 2 Inter 3 Perugia 0 Atalanta 0 Bari 1 Vicenza 3 Napoli 1 Regina 2 Udinese 4 quindi a punteggio pieno rimangono Inter Brescia e Vicenza Acquata 4 Milan Parma Roma Atalanta Udinese Reggiria Bari Juve Bologna Lazio Fiorentina Verona Perugia Lecce e Napoli a 0 Napoli a 0 Napoli a 0 Allora detto questo io volevo un attimo vedere la classifica marcatori per curiosità database vediamo la classifica ho già vista vediamo la classifica assist prima di tutto di Biagio a 2 Bernardini a 2 Gianni Chetta a 2 Totti e Nakata a 1 ragazzi e soprattutto la classifica marcatori che è la cosa che più mi interessa Ronaldo e te pareva 2 partite 4 gol ragazzi Muzzi anche grande Roberto Muzzi a 4 Shevchenko a 3 Dionigi a 3 Vieri a 2 Shevchenko Uppner a 2 o come il Brescia dell'epoca esatto calcola però Shevchenko il Milan non ce l'avevo io la prima giornata mi ha segnato Leonardo il che vuol dire che Shevchenko ha fatto la tripletta ha fatto i 3 Miato vici a 2 Zidane a 2 poi Totti a 1 Samuel e Montella esatto detto questo ragazzi miei 5000 mi piace e arriva subito un nuovo episodio commentate condividete iscrivetevi a tutti i canali i profili social liste anche per tutte in descrizione contenuti consigliati alla prossima con un nuovo video ragazzi ho preso 3 punti ciao ciao